Amici del soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa 151esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del soft e libero open source delle ultime due settimane. C'è stata in mezzo la pausa, la piccola pausa estiva, ho avuto giusto una settimanella di ferie, la settimana prossima si è andata a lavorare. Non ti voglio andare a lavorare, perché devo tornare a lavorare? Apriamo questa puntata parlando del re-hash della terza point-of-the-resi di Ubuntu 22.04 LTS, nome in codice GemmiGelfish. Questa nuova versione include tutti quanti gli aggiornamenti relativi a parco software rilasciati fino ad oggi e comprende anche tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. Oltre a questo troviamo l'aggiornamento dell'hardware enablement stack mutuato da Ubuntu 23.04 Lunar Lobster, che quindi include il kernel Linux 6.2 e Mesa 23.0.4. Ovviamente ad aggiornarsi ci sono anche tutti quanti i frevus ufficiali di Ubuntu, ovvero Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Baggio, Ubuntu Mate e Ubuntu Kirin. A chi è rivolta questa nuova ISO di Ubuntu? Beh, è rivolta a tutti quelli che si trovano a dove fare una nuova installazione di Ubuntu 22.04 LTS, perché hanno una ISO aggiornata, non si trovano a dover scaricare una miriade di pacchetti per avere le ultime versioni del software, e poi in 2.0.0 si trovano anche i kernel Linux 6.2 e Mesa 23.0.4, quindi avete anche prestazioni migliori con un kernel più recente e anche una maggiore compatibilità del vostro hardware rispetto alla versione con cui era stato rilasciato Ubuntu 22.04, che all'epoca era stato rilasciato con il kernel Linux 5.15 LTS. Fatemi sapere se voi state continuando a utilizzare Ubuntu, perché io personalmente sono migrato all'altrillo di ormai da un bel po' e sono migrato a PopOS. E restiamo in ambito Ubuntu con una notizia riguardante Rhino Linux, la derivata rolling release di Ubuntu, che finalmente è uscita dalla fase beta. Gli esiluppatori della dist ha infatti aggiornato il rilascio di Rhino Linux 2023.1, disponibile per x86-64, ARM, Pine64 e Raspberry Pi. Qual è la particolarità di Rhino Linux? Come abbiamo detto, è una distribuzione di tipo rolling release, quindi è una Ubuntu con rilasci continui, quindi si basa sul ramo in sviluppo di Ubuntu. Non ci sono rilasci semestrali, non ci sono versioni stabili, non vengono frizzati i pacchetti, quindi troverete sempre gli ultimi aggiornamenti del parco software e delle librerie di quant'altro. La distribuzione offre anche alcune peculiarità che la distinguono dalle altre derivate di Ubuntu, grazie alla presenza di alcuni tool che sono stati sviluppati in casa e alla presenza di un ambiente desktop sviluppato appositamente per la disto, basato su XFSE. Fra i tool, quello che andremo a utilizzare più spesso, quello che è più sotto l'occhio di tutti quanti, è Rhino PKG, che è un Meta Package Manager, che combina apt, pack install, flat pack e snap, tutto in un'unica interfaccia utente, bella, semplice da utilizzare, che ci consente di installare, rimuovere, cercare e aggiornare tutti quanti i gestori di pacchetti in una volta sola. Troviamo inoltre Rhino Drop, che è un'alternativa open source ad Airdrop, anche questo è un tool sviluppato in casa, che attualmente è soltanto una interfaccia web, ma è in lavorazione un porting per GTK. Infine, come ambiente desktop, troviamo Unicorn Desktop, che è un desktop environment basato su XFSE, che è stato però personalizzato a livello grafico, con una serie di componenti sviluppati in casa, per avere un aspetto simile a Gnome Shell o a Cute Fish. Quindi, qualcosa di già visto a livello di grafico, a livello di interfaccia e quant'altro. Non vedo perché abbiano deciso di perdere così tanto tempo per rifare il tutto, quando bastava magari personalizzare più leggermente XFSE, però tant'è, la distro è loro, e loro si fanno il desktop environment che preferiscono. Voi l'avete provata? Fatemi sapere, lasciate un commento. Nuova puntata della Tecnovega dell'estate, che riguarda Red Hat Enterprise Linux verso il resto del mondo. Sapete bene che cosa è successo negli scorsi mesi. Red Hat ha annunciato che non fornirà più i mezzi, affinché i croni downstream di Red Hat Enterprise Linux potessero continuare a esistere. Quindi non è più possibile realizzare copie binarie uno a uno di Red Hat Enterprise Linux, perché non vengono forniti più i repository per le versioni pubbliche del codice sorgente di Red Hat Enterprise Linux. E l'unico repository per le versioni pubbliche del codice sorgente è quello di CentOS Stream, che, come ben sapete, è tutto furché una distribuzione stabile. Nel frattempo sta passando un errore, chissà se lo sentite voi nel microfono. Che cosa era successo a seguito di questa decisione? Beh, le varie distribuzioni come Arma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux si sono trovate senza la terra sotto i piedi, quindi senza poter continuare a esistere. Arma Linux poi a luglio aveva annunciato di smettere di essere un distro compatibile uno a uno con Red, quindi ha abbandonato il progetto, ha abbandonato questo obiettivo, ma invece ha deciso di concentrarsi, di puntare a diventare una distribuzione compatibile con l'application Binary Interface di Red Hat Enterprise Linux, annunciando poi come intenzione di fare tutto ciò in un post che trovate riassunto sulle pagine di Marcosbox. E successivamente c'era stata anche un'altra notizia che aveva suscitato Scalpura all'interno della comunità, ovvero l'annuncio da parte di SUS, con una mossa praticamente a sorpresa, improvvisa, di effettuare un fork di Red Hat Enterprise Linux e di mantenerlo per continuare a sviluppare e mantenere una distribuzione compatibile con REL disponibile per tutti senza restrizione. Addirittura aveva annunciato anche un investimento di più di 10 milioni di dollari in questo progetto. E come ha intenzione di fare tutto ciò? Bene, la risposta è arrivata in questi giorni con un annuncio di una nuova associazione che ha lo scopo di realizzare, di consentire lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux. Questa nuova associazione, chiamata Open Enterprise Linux Association, Open ELA per gli amici, è costituita da SIC, Oracle e SUS, che hanno annunciato appunto questa associazione di categoria collaborativa per incoraggiare lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux fornendo codice sorgente Enterprise aperto e gratuito. A partire dalla fine di quest'anno, Open ELA fornirà i sorgenti necessari per l'esistenza di downstream compatibili con Red Hat Enterprise Linux, concentrandosi ovviamente inizialmente sulle versioni 8, 9 e forse anche la 7 di Red Hat Enterprise Linux, non è detto che fornirà codice per la 7. Comunque il progetto si impegna a garantire la disponibilità continua dei soggetti di Open ELA alla comunità a tempo indeterminato. I principi fondamentali di Open ELA che riflettono quindi lo spirito del progetto includono a piena conformità allo standard esistente, aggiornamenti rapidi, correzioni di sicurezza, trasparenza nelle decisioni, progetto incentrato sulla comunità, garanzia che le risorse rimangano libere e ridistribuibili per tutti. Vedremo, ci faremo delle risate nei prossimi mesi se non incontreranno in causa legale, anche se penso che abbiano studiato bene la mossa per evitare problemi. vedremo come si evolverà la situazione. Onestamente non sono un fanboy di Red Hat Enterprise, Linux, o meglio in genere non sono un fanboy di Red Hat, non sono un fanboy di SUS, non sono un fanboy di Oracle, non sono un fanboy di nessuno. E non faccio, non mi schio né da una né dall'altra parte. Guardando l'esternamente mi viene da domandarmi perché non cercare di imporre invece uno standard nuovo? Sì, lo so, la gente cerca Red Hat Enterprise Linux a livello aziendale e quindi vogliono Red Hat Enterprise Linux e loro hanno fiutato l'occasione per fornire una distribuzione compatibile con Red Hat Enterprise Linux e fare dei business su questo. Però, ripeto, tutti questi big avevano, hanno la forza per potersi consorziare per fornire un nuovo standard. Io veramente non capisco questa scelta perché come è stato detto anche da alcuni commentatori sul blog, questa mossa sembra che alla fine va a rafforzare anche a vantaggio di Red Hat mantenendo e rafforzando e diffondendo la sua base. Stare a vedere adesso anche come si comporterà Alma Linux alla luce di questa decisione se poi non salirà anche lì sul carrozzone e deciderà di rilasciare la propria distro basata su codici che verrà rilasciato dall'Open Enterprise Linux associso. Vedremo nei prossimi mesi chi vivrà quale dei soggetti vivrà se questo progetto andrà avanti per anni o se si arrenerà. I soldi comunque non gli mancano a Oracle, SUS e SIG. Vedremo. Voi che cosa ne pensate? E continuiamo a parlare di SUS con un comunicato stampa che è arrivato proprio fresco fresco nelle scorse ore e SUS l'azienda che sta dietro SUS Linux Enterprise ha annunciato che il suo azionista di maggioranza Marcel Lux SAR Marcel per gli amici intende privatizzare l'azienda cangelandola dalla borsa di Francofort attraverso una fusione in una entità gussemburghese non quotata in borsa che avrà una forma giuridica di una SA chiedetemi che cavolo significa tutto questo nel linguaggio gregalese del gussemburgo vabbè comunque la notizia in soldoni è che smette di essere un'azienda quotata in borsa e diventa privata quindi SUS diventerà privata e vedremo nei prossimi mesi nei prossimi anni quel che accadrà a SUS se magari questa sarà una buona notizia perché arriveranno nuovi soldi o se ci saranno ci saranno ripercussioni sul futuro di SUS sul futuro anche di OpenSUSE e torniamo a parlare della mia distribuzione preferita del momento del momento perché sapete bene che sono un girova con delle distribuzioni ovvero di PopOS gli sviluppatori di System76 sono tornati ad aggiornarci sullo sviluppo di Cosmic Day nuovo ambiente desktop scritto in Rust che vedremo in futuro su PopOS e su qualsiasi altra distribuzione che vorrà adottarlo quali sono le novità che ci sono state presentate questo mese una novità riguarda la gestione delle personalizzazioni dell'aspetto del desktop per integrare le personalizzazioni alla base di Cosmic si sono assicurati che il sistema sia completamente temizzabile saremo in grado di personalizzare l'aspetto del nostro sistema direttamente dall'impostazione di Cosmic potremo passare dalla modalità chiara modalità scura potremo scegliere il core dell'accento sarà possibile modificare lo sfondo dell'applicazione la tinta della tavolazione del testo dell'interfaccia la tinta della tavolazione quindi potremo personalizzare i colori dell'interfaccia di Cosmic come meglio preferiamo e questa è una cosa molto positiva perché dagli primi screenshot non so se vi ricordate ve ne avevo parlato nelle scorse puntate del podcast commentando lo sviluppo iniziale di Cosmic io ero lamentato dei temi che erano stati scelti inizialmente per la distribuzione per il nuovo ambiente desktop definendoli orribilanti e adesso invece con tutto questo livello di personalizzazione che noi abbiamo con gli accenti con i sfondi della palette coloro insomma che possiamo modificare tutto alla Windows diciamolo pure senza avere paura di dirlo senza senza essere tacciati per per fanboy di Windows una cosa buona aveva fatta Windows finalmente hanno deciso di copiarla quasi tutti perché poi ho visto che recentemente anche sulla versione 6 di Plasma sarà molto temizzabile il desktop environment comunque torniamo a parlare di Cosmic dicevo hanno fatto ho mostrato alcuni screenshot che mostrano quali sono le possibilità di personalizzazione datele a vedere sulle pagine di Marcosbox è stata aggiunta poi una API alla libreria di widget Libcosmic per fornire un framework per lo sviluppo di applicazioni e appletti in Cosmic quindi una cosa a noi non c'è di frigo niente ma se siete programmatori siete interessati a questa cosa il tagging con il mouse è stato progettato come ben sapete insieme al tagging con la tastiera come due parti della stessa funzionalità e sono state fatte questo mese delle modifiche sono state presentate quelle modifiche che consentono di avere un tagging funzionale sia da tastiera che da mouse è stato poi migliorato l'applet per le notifiche che è stato integrato adesso in Cosmic Day e a differenza di quanto accadeva su PPS 22.04 RTS le notifiche esistono su un applet propria separate dal calendario e la gestione sarà migliore sarà più funzionale ci sono poi alcune correzioni che sono state fatte per implementare meglio il supporto a X-Wayland e infine non per importanza anzi in questo caso è una cosa ben più importante di personalizzare l'aspetto del desktop adesso le applicazioni che richiedono l'autorizzazione dell'utente per eseguire determinate funzioni come ad esempio che ne so l'utilizzo del microfono per una chat virtuale in Jitsi o Zoom vengono mantenute isolate da questo del sistema quindi per proteggere al meglio la privacy dell'utente richiederanno il nostro consenso per accedere ai processi che altrimenti potrebbero risultare invasivi e lasciare il sistema vulnerabile praticamente come se fosse una delle ultime versioni di Android giusto per intenderci io sono molto fiducioso in Cosmic Day non vedo l'ora di poterlo provare speriamo che arrivi qualcosa di installabile davvero a breve magari se tutto andrà bene se da quel che ho capito dovrebbe arrivare qualcosa entro la fine dell'anno beh speriamo speriamo voi che cosa ne pensate di Cosmic Day vi fa schifo vi piace e lo trovate un inutile tentativo di reinventare la vuota fatemi lasciate per i lasciati un commento e cambiamo adesso sistema operativo passandolo da Android dopo anni di attesa sta per tornare finalmente una delle funzionalità più richieste dagli utenti Firefox per Android e ovviamente sto parlando del supporto completo alle estensioni su Firefox per Android se utilizzate Firefox per Android sapete bene a che cosa mi sto riferendo fino al 2020 fino a quando non è stata introdotta la nuova versione di Firefox per Android il supporto alle estensioni era presente potevamo installare qualsiasi applicazione in terza parte e potevamo gustarci tutte le estensioni che siamo abituati a utilizzare su desktop sulla versione desktop T di Firefox successivamente è stata introdotta la nuova versione di Firefox per Android nel 2020 ed è stato tolto il supporto alle estensioni di terze parti come step intermedio nel corso del tempo sono state poi rintrodotte in via via una serie di estensioni verificate come ad esempio Ublock Origin però il sistema non era un vero supporto completo alle estensioni non era disponibile era disponibile con diciamo così uno scamotage quello di abilitare le correzioni di estensioni vabbè ma è una cosa che non non era non era una cosa che facevano tutti quanti non era portata di tutti non era una cosa automatica out of the box adesso fortunatamente le cose stanno per cambiare perché Mozilla ha pubblicato sul blog ufficiale una chiamata alle armi per gli esegupatori di terze parti e nei prossimi mesi finalmente Mozilla rilascerà un aggiornamento di Firefox con il supporto per un ecosistema aperto di estensioni che sarà disponibile sul sito addons.mozilla.org la data di lancio definitiva verrà annunciata ad inizio settembre ma è rilecito aspettarsi un lancio prima della fine dell'anno quindi entro alla fine del 2023 finalmente potremo installare le nostre estensioni preferite su Firefox per Android e diventerà finalmente un browser che potrà essere consigliato a tutti quanti fra l'altro entro la fine di agosto se non ricordo male perché dovrebbe verso la fine di agosto dovrebbe essere rilasciata anche la nuova versione di Firefox per computer desktop che integrerà l'estensione quella che era stata annunciata qualche tempo fa di cui vi avevo parlato anche sulle pagine di Marcosbox integrerà finalmente un servizio di traduzione delle pagine web che erano altre delle grandi lacune di Firefox adesso la potete utilizzare mediante un'estensione grazie al progetto Bergamot che è stato rilasciato diversi anni fa mano a mano il progetto è maturato è stata rilasciata l'estensione che è possibile installare adesso fortunatamente con la prossima versione stabile di Firefox verrà integrato all'interno del browser web quindi non dovremmo stare a installare più l'estensione ma sarà tutto nativo e integrato e io spero vivamente anche che il supporto al traduttore integrato arrivi anche nella versione mobile perché la navigazione come ben sapete adesso passa principalmente per smartphone e quindi avere il traduttore sullo smartphone per le pagine web può essere una gran cosa perché non tutti sono studiati non tutti conoscono le lingue e avere il traduttore integrato all'interno del browser è una cosa che fa la differenza tutti quanti i principali browser basati su Chromium poi hanno introdotto anche dei traduttori alternativi a quello di Google quindi Vivaldi utilizza un suo traduttore Brave utilizza un altro suo motore di traduzione Firefox è rimasto l'unico che sta lì a guardare gli altri sparisati fortunatamente come dicevo questa cosa verrà colmata a fine mese e speriamo venga colmata anche sulla versione mobile per Android poi magari vedremo di più nei prossimi mesi speriamo che arrivi a quel livello se sapete qualche cosa se avete letto qualche cosa riguardo al traduttore nella versione per Android lasciate un commento io per adesso non mi sembra di aver trovato date del rilascio dell'integrazione di questa funzionalità su Android però appunto se sapete qualche cosa in più fatemelo sapere stanno passando camioncini oggi che sto con la finestra aperta perché stanno a 31 gradi in stanza un 50% l'umidità sta passaglia di Dio ed è sabato sabato di agosto che non dovrebbe passare nessuno però oggi si sono concentrati tutti quanti per passare qua vabbè e concludiamo questa puntata con una notizia che arriva dalla Francia una notizia che sta facendo discutere molto perché la gente ha paura che questa cosa possa approdare anche in Italia e soprattutto chi realizza browser web ha paura perché questa legge potrebbe minare la libertà degli utenti di navigare su web che cosa è successo è successo che il governo francese sta lavorando da diversi mesi a questa parte ha un disegno di gadget che se dovesse passare così come attualmente costringerebbe i browser web quindi Fire Force Valdi Brave Safari Chrome Edge non praticamente tutti quanti non ci sarà eccezione scusa il che costringerà a implementare all'interno dei propri codici meccanismi atti a bloccare i siti web presenti in un elenco fornito dal governo francese tutto nasce dal disegno di legge SRAN il cui scopo è anche nobile quello di regolamentare meglio lo spazio digitale tutelare gli utenti Linux quindi proteggere i bambini dalla pedopornografia online proteggere da truffe moleste disinformazione e quant'altro quindi una nobile motivazione se non altro nel quale l'inghippo come viene fatto notare da Mozilla che è dovuto intervenire con un articolo a riguardo e ha lanciato anche una petizione online liberamente sottoscrivibile da chiunque per cercare di far capire al governo francese che questo disegno di legge così come proposto è una cosa molto pericolosa perché che cosa si dice all'interno di questo disegno di legge nell'articolo 6 in particolare nei paragrafi 2 e 3 si dice che al fine di attuare le misure di blocco quindi di immagini di contenuti pornografici protegge truffe online molestie disinformazioni e quant'altro i browser web devono avere una funzionalità che consenta di bloccare un elenco di siti che verrà fornito dal governo francese direttamente all'interno del browser quindi direttamente localmente non più come succede in alcune in alcune nazioni a livello di DNS ma a livello proprio locale del browser interverranno sui nostri dispositivi sebbene oggi possa essere sfruttato soltanto per questi contenuti malevoli malware phishing e quant'altro questo di fatto andrà a fare un precedente perché se noi andiamo a introdurre la capacità tecnica all'interno di un browser di bloccare determinati contenuti un qualsiasi governo potrà voler limitare o criminalizzare che ne so una determinata parte politica potrà criminalizzare un particolare credo un particolare orientamento e se la storia ci insegna e se l'informatica ci insegna in questi casi se è possibile se abbiamo la capacità tecnica di fare un blocco ci saranno governi che faranno un blocco lo faranno e gli diamo praticamente nelle mani uno strumento che uno strumento in più per fare questi blocchi questo blocco andrà per esempio ad avere ripercussioni anche che ne so su browser tipo tor tor browser incentrati sulla privacy e quindi è brutta questa situazione bisogna bisogna bloccarla e speriamo che questa parte venga bloccata questa parte di questa proposta di legge perché la preoccupazione qual è? la preoccupazione è che lo introduce per primo la Francia il nome di un nobile ideale e poi magari la ruota segue tutta quanta l'Europa segue lo Zimbabue segue la Cina segue gli Stati Uniti segue qualsiasi altra nazione perché dice l'hanno fatto prima loro lo facciamo anche noi sotto altra forma è un attentato alla privacy diciamoci è uno strumento di censura è uno strumento che va fermato voi che cosa ne pensate? lasciate un commento e con questa ultima notizia si conclude qui questa 151esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social vi invito a iscrivervi numerosi alla pagina facebook al profilo twitter x come lo volete chiamare seguitemi su youtube dove è presente il canale dove posto anche video non inerenti al blog ma anche recensioni e quant'altro mi trovate su ginkedin mi trovate su mastodon nella fattispecie nell'istanza mastodon1 ma sapete come potete andare da qualsiasi parte potete seguire i podcast su tutte quante le principali piattaforme di podcasting mi trovate infine su telegram con una pagina dedicata alle notizie quindi vengono pubblicate le notizie di Marcos Box e qualche altra cosa che trovo interessante da condividere trovate poi la community telegram collegata al canale di Marcos Box dove potete discutere del più e del meno oltre a commentare le notizie e infine trovate un canale telegram dedicato all'offerta Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando dei miei link referral su Amazon che comunque trovate anche indicato sulle pagine di Marcos Box se sapete come utilizzarlo a manina Marcos Box trattino 21 infine se volete supportare il blog vi ricordo che potete farlo anche mediante l'acquisto di una VPN a vostra scelta tra Surfshark Nord VPN e Atlas VPN perché fanno parte tutto dello stesso cucuzzaro ci sono diverse particolarità in queste tre VPN con diversi prezzi le trovate riassunte in un articolo che trovate sulle pagine di Marcos Box un bannerino laterale dove trovate poi i link affiliazione a questi tre servizi lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo la prossima settimana spero con una nuova puntata del podcast di Marcos Box e con nuove notizie ciao 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 ciao